La mano destra è comunque libera da ogni impedimento ed è sempre fatata, soprattutto dalla lunga distanza. Meno due adesso per Sassari, a un minuto e dieci dalla fine del primo periodo. Linart ancora in solitaria, tripla che questa volta manda a bersaglio, anzi da due punti fa segno l'arbitro Chiari. Dal tiro pesante, meno tre Sassari, un solo possesso a dividere le due squadre. Questi sono i grandi tiratori. La continuità mentale, anche se magari non segnano, ma non smettono di tirare nella maniera corretta. E anche Linart, Stefano, non ha perso la fiducia della palla persa nell'azione precedente, con grande tripla adesso. Di questa partita, l'abbiamo detto, per il mancino dell'Ohio, che qui invece realizza, di questo tiro libero che diventano sei, e va per il settimo punto che realizza. Perché Sassari rimette il naso avanti sul 58-57, e Linart dopo il fallo in difesa, che aveva dato i due tiri liberi ad Omar Thomas, si fa perdonare mettendo la tripla del nuovo vantaggio. Grazie. Grazie. Grazie.